Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale Scusate, sono ancora un po' malata Scusate se ho ancora sul pigiama Ma oggi fa davvero davvero freddo Quindi non me la sentivo di cambiarmi E quindi faccio così il video Allora, oggi sono in questo video E appunto vi farò vedere le cose che mi sono uscite dal calendario Dal 14 a oggi, cioè al 18 di dicembre A parte una cosa che non c'entra nulla E le faccio vedere Allora, premetto che Scusate Premetto che Scusate, non fate caso neanche ai miei capelli Perché Perché sono un po' Allora, premetto che non mi ricordo Allora, mi ricordo solo quello che mi è uscito ieri E quello che mi è uscito stamattina Allora Poi le altre tre cose non me le ricordo Allora Mi è uscita questa crema Crema viso per le Base per le scende della bottega verde Premetto sempre che il Mio calendario è della bottega verde Quindi tutto quello che mi esce da questo calendario Sarà È della bottega verde Allora, mi è uscita la crema per le Base per le scende Per viso Questa qui Che l'aveva già in taglia grande E me la sono spattasciata addosso Vabbè Questo è un piccolo aneddoto Aneddoto Che vi voglio raccontare Scusate Sono un po' malata ancora Questo è un piccolo aneddoto Che vi voglio raccontare Quindi, insomma, questa qui è la crema La base per le scende Per il viso Poi Mi è uscito questo fondotinta Sempre di bottega verde Nella colorazione beige Fondotinta in crema Nella colorazione beige Poi Mi è uscita questa candela Questa candelina piccola Che è fatta Fatta La faccio vedere Ecco Fatta così Questa candelina piccola Vedete, è una candela molto, molto normale Profumazione molto buona Quindi questa è la candelina Poi Mi è uscito anche Aspettate Adesso cercherò Di rimetterla a posto Ecco fatto Ecco Poi mi è uscita Ieri mi è uscita questa crema a mani Che si chiama Baccio sotto il vischio Questa qui Questa crema a mani Sì Questa crema a mani Che Vabbè Mi è uscita insomma Questa crema a mani E Stamattina Mi è uscito un altro smalto Smalto Di bottega verde Che è Rosso Ribes Se non sbaglio Ecco È uscita questa Questa Quest'altra tonalità Di smalto Allora Siccome Ci sarà Cioè Siccome fare Un video Per un prodotto solo Mi sembra Un po' Poco Un po' Corto Ha pensato Di accumularne Prima un po' A parte che manca Una settimana Quindi Sì Ve lo farò Vedere Vi farò vedere Tipo Tutti Vediamo un po' Mediardie 22 Non li farò vedere Tutti insomma Tutti insieme Non sto lì a fare Un video Per ogni giorno Perché se no Non 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 Poi c'è il Natale di mezzo Quindi Natale Non Di solito Non giro mai Quindi Ve li farò vedere Tutti Ve li farò vedere Tipo il 27 Ve lo farò Comunque Non lo so Prima della fine dell'anno Ve lo farò vedere Tutto Ho pensato appunto Di girare Di girare Un video Un video Unico Per Alcuni Tutti i prodotti Video Unico Alcuni Mini video Per Accumulando un po' Di prodotti Tipo il primo Che ne ho accumulati 10 Oggi E questo E il terzo Che ne ho accumulati 5 Insomma Il video Un po' Più ricco Perché E fare Un video Da 5 minuti Solo con un prodotto Mi sembra Un po' Ridutile Quindi Cercate di allungare Un po' Il video Mostrandovi Un po' Più Di prodotti In un video Comunque Per questo video Qua È tutto Io vi ricordo Che Se vi è piaciuto Il video Mettete Mi piace Se invece È la prima volta Che vedete Un mio video E volete vedere Degli altri Iscrivetevi Al canale E se invece Volete commentare Cioè Potete commentare Commentate Commentate Se avete Delle richieste Se avete Dei consigli Se volete Delle informazioni Se avete Una richiesta Specifica Per qualche Trucco Specifico Ecco Cosa vi volevo dire Vi volevo dire Anche Che Adesso Non so Se ce la faccio In questa settimana Magari Giro Anche I trucchi Per le feste Comunque Se avete Delle richieste Delle informazioni Da chiedermi Comunque Dei saluti Ecco Potete Scrivermelo Sotto Nei video Nei commenti Del video Questo è Veramente Tutto Io vi saluto Vi saluto E ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 Ciao